1 è THATS come video come video biologico come video biologico YouTube merda 7 e merda resterete, merda siete e merda resterete solo questo momento filan, filan, baffanculo filan, filan, baffanculo e chi non salta, e chi non salta oh oh oh, chi non salta e chi non salta, e chi non salta oh oh oh, chi non salta e chi non salta filan e chi non salta è arrivato, Milano stiamo arrivando siamo arrivato, Milano stiamo arrivando a questa montagna va a storere la mano questo è il momento che ci aspettavano voglio tornare a Roma e a Milano a caricare con il raffa che mano e la buettina sarà la 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 la